Cambiare la riforma del reddito di cittadinanza concreto a centottantesimo della misura. Con decorrenza gennaio 2024. Però già per il prossimo anno sono previste alcune novità per chi può lavorare. Sarà ridotto, infatti, il diritto al sussidio e si cercherà di inserire queste persone nel mercato del lavoro e il reddito di cittadinanza. Sarà riformato. In questo senso, sarà riformato il reddito di cittadinanza. Come abbiamo annunciato, c'è un anno di transizione nel quale Tuttavia, tutte le persone in difficoltà sono tutelate. Le persone che non sono in grado di lavorare saranno appena tutelate. Mentre chi è in grado di lavorare avrà una riduzione dei mesi di sostegno che porterà da 12 a 8 mesi, ha detto il segretario di Stato sull'attuazione del programma ha fatto volare. Il governo ha spiegato che dal 1 gennaio 2023 alle persone tra i 18 e i 59 anni di età in grado di lavorare, ma non hanno nel proprio nucleo minori disabili o persone a carico con almeno 60 anni di età, Sarà ha riconosciuto il reddito di cittadinanza fino a un massimo di 8 mesi è un taglio importante, visto che al momento la misura è di 18 mesi con possibilità di rinnovo allo stesso tempo saranno necessari almeno 6 mesi di partecipazione. Un corso di formazione o una qualifica professionale, pena la decadenza dal beneficio immediato prevista in diminuzione anche nel caso in cui si rifiuti una sola offerta di lavoro ritenuta congrua per il sussidio, si percepiranno comunque i cosiddetti inoccupati, ad esempio le persone che hanno disabilità per le quali è impossibile lavorare dal 1 gennaio 2024. Non ci sarà più il reddito di cittadinanza, ma non la nuova riforma, di cui non sono ancora stati resi noti i contorni.